La mia famiglia Non è nulla, nessuno si mostrò. Merlicerio! Si chiama, oh, Madonna Francesca. E calica la vostra Mester Giovanni. No, non ancora, Madonna, l'aspettiamo. E nessun altro. Nessun altro, Madonna. Chi è che sale? Oppe Mester Giovanni. Chi sei tu? Chi sei tu? Chi sei tu? Grazie a tutti.